Sono Monica Cassetta, titolare dell'azienda Maglioli Cartemisia e sono all'interno del portale web Deruta nel mondo. L'azienda ha più di 40 anni ed io ho ereditato da miei genitori l'arte della magliolica artistica. I decori utilizzati per le varie forme sono i decori classici di Deruta, quali il ricco Deruta, il raffellesco, l'arabesco, le pene di pavone, i decori vari. In particolare sono specializzati nella riproduzione di decori antichi, quali stemmi, medioevale, i arabeschi antichi, i raffelleschi antichi e i gerali fioriti. La nostra produzione è specializzata in complimenti di arrego, quali lampade, lampadari, centrotavola e complimenti per la tavola, quali piatti da tavola e tutti gli accessori vari. Inoltre siamo anche disponibili a realizzare su richiesta del cliente vari decori o forme. Vi invito pertanto a visitare la nostra azienda per accogliervi e conoscerci.